Ancora un blitz della Guardia di Finanza di Arezzo. Dopo le mascherine a finire nel mirino delle fiamme gialle sono stati infatti alcuni respiratori. I militari, su disposizione della procura, hanno così sequestrato in un'azienda a retina quattro macchinari privi di certificazione europea destinati ad ospedali pubblici del Lazio per l'emergenza Covid-19. La stessa problematica dunque che aveva portato al sequestro di 72.000 mascherine tra Arezzo, Lombardia ed Emilia Romagna. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, all'inizio dell'emergenza l'azienda si era giudicata una gara d'appalto della regione Lazio per la fornitura di 320 apparecchi destinati alle terapie intensive, dopodiché aveva iniziato ad importare i macchinari dalla Cina. Un funzionario regionale ha però messo in dubbio la conformità dei primi quattro respiratori giunti in Italia. Si era così messa in moto la finanza e dopo un periodo di indagini il PM Roberto Rossi ha firmato un decreto di perquisizione nella sede dell'azienda a retina che riveste il ruolo di importatrice e le apparecchiature sono state poste sotto sequestro. La regione Lazio ha così bloccato l'intero carico di fornitura. Dai primi riscontri sembrerebbe comunque che l'azienda a retina sia stata in buona fede.